Ai problemi legati al Green Pass, alle cattedre ancora vacanti, alle classi numerose e alla carenza di spazi si è aggiunta in queste ore un'altra complicazione per le scuole. Il Tar Lazio ha deciso che il decreto ministeriale 182 del dicembre 2020 con cui veniva definito il nuovo modello di PEI per gli alunni con disabilità è assolutamente illegittimo e va quindi annullato, così come viene di fatto annullata anche la circolare ministeriale del mese di maggio che dava indicazioni su come applicare il decreto. Adesso nelle scuole si sta cercando di capire come bisognerà procedere, visto che il PEI dovrebbe comunque essere adottato nei primi mesi dell'anno scolastico. Molto soddisfatte della decisione del Tar sono ovviamente le associazioni che avevano presentato il ricorso, fra le quali Core Down e CIS, Coordinamento Insegnanti di Sostegno. Il Tar ha accolto in larga misura le osservazioni delle associazioni. In primo luogo i giudici amministrativi hanno evidenziato che il decreto legislativo 66 del 2017 prevedeva che prima di definire il nuovo modello di PEI il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto adottare un apposito provvedimento in materia di certificazione e di profilo di funzionamento. Al contrario tale atto preliminare non è mai stato adottato e per la verità il Ministero stesso ne era ben consapevole tanto che nel decreto su PEI si diceva che in via transitoria le scuole avrebbero dovuto fare riferimento alla documentazione prevista in precedenza, diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale. Ma il Tar è entrato anche nel merito della questione, accogliendo le motivazioni adotte dalle associazioni. Sentiamo in proposito cosa ha da dire Evelina Chiocca, Presidente del CIS, Coordinamento Italiano degli Insegnanti di Sostegno. E abbiamo espresso da subito le nostre preoccupazioni in merito a tre tematiche di fondo. La prima riguarda, non ne parlo in ordine di importanza perché sono tutte altrettanto importanti, la partecipazione della famiglia in quanto presenza che condivide il percorso che per noi è irrinunciabile in un percorso formativo. La seconda questione riguarda l'evidente possibilità di riduzione dell'orario scolastico che va a ledere il diritto dell'alunno e la terza gravissima che è quella della misura dell'esonero che per la prima volta viene proposta praticamente e che dal punto di vista anche culturale lancia un messaggio veramente forte in pieno contrasto con i principi della Costituzione e con i principi dell'inclusione scolastica. Quindi non potevamo sicuramente non tener conto di questo e non intervenire perché questo richiedeva una presenza e una testimonianza ma anche un'azione che desse ragione prima di tutto e proprio in maniera esclusiva agli alunni con disabilità e ai loro compagni perché la questione culturale non va dissociata da questo. Sulla vicenda le organizzazioni sindacali esprimono sconcerto e preoccupazione. CISL Scuola per esempio segnala che il TAR ha di fatto accolto critiche su diversi punti del decreto già sollevate dal sindacato e dallo stesso CSP a partire dal passaggio che prevede la possibilità di esonerare l'alunno disabile da alcune discipline. Lo SNALS si mostra soddisfatto per la decisione del TAR anche perché il meccanismo previsto dal decreto 182 avrebbe reso difficile garantire equità e trasparenza nella assegnazione delle ore di sostegno. E anche il partito comunista italiano di Luca Cangemi interviene sulla vicenda affermando che la bocciatura del nuovo PEI è anche una bocciatura del modo di governare la scuola. Al di là delle dichiarazioni e delle polemiche adesso però è necessario che il Ministero fornisca subito alle scuole le indicazioni operative su come procedere per la stesura del piano educativo individualizzato degli studenti con disabilità. Su questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati. Seguiteci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it inviateci le vostre osservazioni, i vostri documenti, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.